Io ovviamente ringrazio tutti, prima di tutto il cantante della solidarietà che speravo cantasse, però ovviamente non si può fare. Noi facciamo una chirurgia che è una chirurgia mini-invasiva, quindi molto molto veloce, l'adegenza è molto veloce, l'allettamento è molto rapido. Qualcuno di voi qua ha provato di prima persona cosa vuol dire, avevamo la necessità concretamente di poter avere qualcosa per mobilizzare i pazienti e questo è stato un bel risultato. Un risultato che è ottenuto anche dall'azione dinamica della nostra direzione strategica, ma essendo questo un ospedale radicalmente costruito all'interno del territorio, di tanti piccoli paesi che affluiscono qua, ovviamente niente può essere fatto senza un'azione strategica coordinata, politica sul territorio e giustamente, come ha detto il signor Ranieri, il sindaco è qua, non per dimostrazione del sindaco, ma per dimostrazione del fatto che le amministrazioni comunali di città importanti come queste devono e saranno sempre il segno di presenza sul nostro territorio. Grazie di queste belle opere, vi assicuro che saranno utilizzate concretamente sempre, venite a trovarci, lo vedrete.